Voga 2016, la tua attrezzatura e strumentazione video, vlog che comincio mostrandoti la mia mirrorless professionale Panasonic, con il microfono Boia montata sul mio treppiede Manfrotto, o anche il monopiede Manfrotto che trovo molto comodo, non solo perché permette di stabilizzare la telecamera nelle situazioni in cui è scomodo muoversi con il treppiede, ma anche perché spesso attacco il powerbank al monopiede e il monopiede chiuso con il powerbank è un peso, abbastanza comodo per utilizzare questo strumento come se fosse uno Steadicam, funziona in maniera eccellente. Oltre a questo, naturalmente, ho la Canon Legria Mini che trovo una telecamera comodissima ed eccezionale, perché semplicemente la posizioni, la accendi e registri senza tante complicazioni, e infine ho una GoPro, una Hero 3 Plus Silver Edition, la utilizzo come telecamera proprio sportiva, come sportcam, la utilizzo soprattutto nei video di protezione civile. Però è molto comoda e molto versatile, soprattutto perché ho una telecamera che imposti, che la accendi e subito registra, la spegni, finisce di registrare e si spegne, quindi molto comoda per questo tipo di situazioni. Poi ovviamente ho una distesa di microfoni, di altre attrezzature, ma queste a livello hardware sono le cose più importanti. A livello software utilizzo due diversi programmi in casa, che ho Windows, utilizzo AVS Video Editor per fare i montaggi più complessi, in mobilità sul portatile che ho Linux, utilizzo Kiri in live e Avidemux come programma di post-produzione. Questa è la mia attrezzatura, la mia strumentazione principale. E a proposito della tua, parliamone nei commenti qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi ci vediamo domani.